La città avrà sicuramente un questore che ha voglia di fare, approfondirò quelle che sono le attività illecite piuttosto che i comportamenti che creano disturbo, quella che è la serena vita dei cittadini nell'ambito della provincia piacentina. Il piacere del confronto è fondamentale, la rete che si crea tra le varie istituzioni è la forza di una provincia nell'attività di prevenzione e controllo del territorio e quindi su questo punteremo molto. Nell'argentese la partecipazione della cittadinanza è importante per ricevere le informazioni che non sempre con gli operatori sul territorio si riescono a raccogliere, quindi anche attraverso gli organi di stampa, che ovviamente noi leggiamo con interesse, per ricondurre quelle che sono, quelle che è la realtà degli episodi ad un'immediata risoluzione. Il tentativo è quello di prevenire, leggere prima quelle che sono le situazioni che si vanno mano a mano creando nei quartieri piuttosto che nei comuni dell'Interland di Piacenza, per poterne affrontare sotto diversi aspetti la risoluzione. E su questo credo che i colleghi dell'arma, della Guardia di Finanza, le polizie locali saranno una grande squadra con cui intrecciare le forze per dare una risposta alla collettività.